6. L'arte dell'acropoli celebra una civiltà superiore. Il tempo dell'arte, nel mezzo secolo che corre tra la fine delle guerre persiane, 479 a.C., e lo scoppio della guerra del Peloponneso che la contrappose a Sparta nel 431 a.C., Atene conobbe una straordinaria fioritura artistica e culturale. 7. Furono realizzate grandi opere d'arte in cui si rispecchiò l'intera città, convinta di aver sconfitto la Persia in virtù di una superiore energia spirituale. Atene celebra sé stessa. Già in precedenza l'arte greca aveva raffigurato le vicende mitologiche narrate dai poeti, che simboleggiavano la lotta contro le amazzoni, i titani, i centauri. Tutte incarnazioni dell'inciviltà. Adesso quei racconti furono reinterpretati e assunsero un più alto valore morale ed educativo. Divennero così il simbolo della vittoria ateniese sulla barbaria persiana di Serse. L'acropoli e i suoi templi. Questo sentimento diede vita ai nuovi monumenti dell'acropoli, la collina sacra della città. Fin dal VI secolo a.C. nell'acropoli si custodiva la statua di Atena Poliade, protettrice della città. L'acropoli era stata distrutta nel 480 a.C. dall'incendio appiccato dai persiani, ma temisto che aveva posto in salvo sulle navi la statua di Atena. Essa poteva dunque diventare il simbolo della rinascita. La vittoria sui persiani diventa mito. Nel 449 a.C. Pericle diede impulso alla ricostruzione dell'acropoli, che fu finanziata utilizzando i tributi versati dagli alleati di Atene. Tra il 447 e il 438 a.C. sull'acropoli venne edificato il grande Tempio del Partenone, opera degli architetti Ctino e Callicrate, concepito come omaggio e ringraziamento verso la dea Atena, protettrice della città. Pericle chiamò ad abbellirlo il grande Fidia, il massimo scultore del tempo, che raffigurò sulle pareti del Tempio sia la nascita della dea Atena, detta Partenos, la Vergine, sia la vittoria di Atene contro i barbari del mito antico, giganti amazzoni, chiarissima allusione alla vittoria sui persiani. In tal modo la recente vittoria militare si traduceva in un mito moderno, in cui tutti gli ateniesi potevano riconoscersi con orgoglio. L'età classica ad Atene si sviluppano nuove forme di sapere. L'attrazione su artisti e intellettuali, i grandi concorsi teatrali celebrati in occasione delle festività e i lavori per la decorazione dei templi e degli altri edifici pubblici, richiamarono ad Atene il fiorfiore degli artisti e degli intellettuali di tutta la Grecia. Filosofi, scienziati, pittori, scultori vi giunsero ad aprire scuole di retorica e di filosofia, botteghe di ceramica e scultura, a elaborare un pensiero e un'arte nuovi. Fu il momento d'oro della cultura ateniese, poiché coincise con l'età di Pericle. Dopo la metà del V secolo a.C. è anche detta l'età classica della cultura greca. Uomini e idee. Alla cerchia di Pericle e di Aspasi e la donna di Mileto, a cui lo statista si legò, appartenevano lo storico erodoto e il filosofo Annasagora, l'architetto e urbanista Ippodamo, il poeta tragico Sofocle e lo scultore Fidia. La loro elaborazione intellettuale, fatta di opere e di discussioni feconde, rappresentò un autentico laboratorio di idee per l'attività pubblica di Pericle. La filosofia, intesa come campo di ricerca e di discussione intellettuale, si sposava naturalmente con la partecipazione politica e con il libero confronto richiesti dalla democrazia ateniese. Filosofi da tutta Grecia, molti filosofi non erano ateniesi. Annasagora, che teorizzava la forza razionale della mente, il nous, giunse ad Atene dall'Asia minore. Dalla stessa zona proveniva Eraclito, che teorizzò il mutamento, il divenire di tutte le cose. Dalla traccia, nei Balcani, veniva Protagora, il sofista secondo il quale l'uomo misura di tutte le cose. Il mondo greco era vasto e fertile, originari della magna grecia erano il filosofo Parmenide e il suo scolaro Zenone, che cercavano l'essere che non muta mai. Dalle Ontini di Sicilia proveniva un altro sofista, Gorgia, che teorizzò la forza persuasiva della retorica. Ateniese di nascita era invece il più affascinante di tutti i filosofi. Socrate, maestro di libertà e di sincerità morale, il suo più famoso discepolo sarà Platone. La diffusione del sapere. Bene accolti nelle case dei nobili ateniesi o dei ricchi meteci, tutti questi intellettuali trovarono ad Atene un ambiente stimolante e ricco di risorse materiali. Nella capitale della Lega di Delo, alla testa di un potente impero marittimo, non mancavano davvero le risorse pubbliche e private per promuovere l'arte e la cultura. In realtà l'arte e la cultura non riguardavano soltanto una ristretta elite. Ampi strati di cittadini sapevano leggere e scrivere, una grande novità per il mondo antico. I giovani di buona famiglia frequentavano i ginnasi, le scuole in cui si imparavano a memoria i poeti, Omero, Esiodo, i grandi lirici come Alceo, Saffo, Mim Nermo. I loro carmi venivano poi recitati e cantati nei raffinati simposi, le riunioni conviviali che si tenevano nelle case private. L'importanza del teatro, un grande contributo, infine veniva dalle rappresentazioni teatrale, amatissime dal popolo e nelle quali si cimentarono alcuni tra i maggiori drammaturghi di ogni epoca, come Eschilo, Soffocle ed Euripide. Nelle loro tragedie mettevano in scena le storie degli dèi, degli eroi del mito, ma attualizzandole in modo da proporre a tutti una riflessione di altissimo livello su ciò che significa essere uomini, donne e cittadini. Il comediografo Aristofani invece nelle sue graffianti commedie osava criticare satiricamente i potenti, assolvendo così ad un altro compito essenziale della cultura. Glossario, retorica. In greco è l'arte dell'eloquenza, la disciplina del parlare e dello scrivere bene, finalizzata alla persuasione dell'ascoltatore, fondamento di gran parte dell'educazione letteraria e dell'antichità classica. Filosofia, questa attività del pensiero nata nella Grecia antica, costituisce una delle forme più elevate di cultura. La filosofia comprende l'esame razionale dei modi di agire, di conoscere e di pensare. Affronta la discussione sulle origini e sui fini del mondo dell'uomo. Cerca una sintesi in cui poter comprendere ogni fenomeno naturale. Le fonti, Tucilite, il ritratto di Pericle, da guerra del Peloponneso. Tucilite enumera le virtù personali e insieme politiche di Pericle. Per tutto il tempo in cui rimase la testa della città in periodo di pace, cioè del 460 al 431 a.C., la guidò con moderazione e la custodì in piena sicurezza ed essa, grazie a lui, divenne grandissima. Quando poi scoppiò la guerra, la guerra del Peloponneso contro Sparta, che scoppiò nel 431 a.C., Anche allora egli apparve perfettamente in grado di prevederne gli sviluppi, opportunatamente fornito di mezzi per sostenerla. Visse ancora per due anni e sei mesi, dopo l'inizio della guerra, e dopo la sua morte, ancora più chiaramente si poteva apprezzare quella che era stata la sua abilità nel prevedere il corso del conflitto. Pericle basava il suo potere innanzitutto sul prestigio personale e sulla propria intelligenza politica, oltre che su un'assoluta incorruttibilità. Dominava il popolo senza limitarne la libertà e senza farsi guidare da esso, più di quanto egli non lo guidasse a sua volta. Pericle, infatti, non parlava mai al popolo semplicemente per lusingarlo, giacché l'autorità di cui godeva non se l'era procurata con mezzi illeciti. Essa anzi gli derivava esclusivamente dal proprio prestigio personale, e ciò gli consentiva di opporsi al popolo, anche quando esso era in preda alla collera. Quando dunque egli si accorgeva che il popolo si faceva troppo audace e alzava inopportunatamente la testa, sapeva con le sue parole ridurlo al rispetto per l'autorità. Quando invece gli accadeva di vederli spaventati, senza motivo, riusciva a far rinascere in loro il coraggio. Vi era così ad attenuare una democrazia di nome, ma di fatto un potere affidato al primo cittadino. Quanti invece vennero dopo di lui, trovandosi su di un piano in maggiore parità gli uni rispetto agli altri, per primeggiare, finirono per lusingarne il popolo, affidandogli il governo effettivo dello Stato. Interpretiamo la fonte. Tuccidite illustra le virtù di Pericle, sia come uomo sia come statista politico. Furono tali virtù ad assicurare a Pericle grande prestigio sul piano personale ed efficace alla sua azione politica. Non si trattò però solo di fortuna o di successo personale. Infatti, secondo l'autore, la sapiente condotta di Pericle seppe contemporaneamente garantire il massimo sviluppo della sua città, Atene. Lucidamente l'autore mette a fuoco un paradosso nella vicenda di Pericle. Vi era così ad Atene una democrazia di nome, ma di fatto un potere affidato al primo cittadino. Le due cose in generale si escludono. Il potere personale gestito da un leader di solito dà vita a una gestione autoritaria del potere, non a una gestione democratica di esso. Nel caso di Pericle, invece, l'autorevolezza del leader seppe trovare un vero equilibrio con le istituzioni democratiche della città. Fu questo felice connubio ad assicurare alla capitale dell'Attica un irripetibile sviluppo. Politica, il popolo della Pnice, la parola e i cittadini. Nelle altre poleis le riunioni del popolo avvenivano nella piazza pubblica, la Gorà. Invece Ecclesia, Ateniese, teneva normalmente le sue riunioni in un luogo apposito sulla Pnice, una modesta collina situata sud-est della Gorà. I cittadini sedevano direttamente sulla pietra, semicerchio, guardando la tribuna degli oratori. Solo i cittadini maschi di età superiore ai vent'anni avevano diritto a prendere la parola. La Pnice era con il partenone il simbolo di Atene. Il comediografo Aristofane chiamò gli Ateniesi il popolo della Pnice. L'espressione salire alla Pnice significava proverbialmente recarsi all'assemblea. La popolazione ateniese, 30-40.000 maschi adulti, era dispersa sul territorio nei villaggi agricoli. Solo una minoranza abitava ad Atene e negli immediati dintorni. Per chi era impegnato in lavori o abitava lontano era di fatto impossibile partecipare. Per circa 40 volte all'anno ai lavori dell'assemblea, dall'alba al tramonto. Del resto la collina della Pnice era piuttosto piccola, poteva ospitare sedute, non più di 6.000 persone. Era questo il quorum del 15% dei cittadini, previsto per l'ostracismo e le decisioni più importanti. Di solito le sedute non raccoglievano più di 2-3.000 cittadini, la maggioranza dei quali si limitava ad ascoltare e votare. Solo pochi avevano la capacità e il coraggio di prendere la parola ed esprimere il proprio parere davanti a tutti. Nel 400 a.C. la Pnice fu ristrutturata. Fu eretto un muro di sostegno, vennero innalzati due grandi scalinate e banchi in legno. Un secolo dopo le riunioni furono trasferite al Teatro di Dionisio, sul fianco dell'Acropoli. Cultura, il teatro della Polis. Atene era anche la città in grado di seguire e apprezzare spettacoli dal contenuto complesso e ricchi di allusioni letterarie, come quelli insienati da Eschilo, Sofocle ed Euripide, i tre grandi poeti tragici, tutti operanti ad Atene nel scorso del V secolo a.C. Le rappresentazioni teatrali durante le feste in onore del Dio Dionisio costituevano un momento tipico dell'educazione civica e politica del cittadino ateniese. Attraverso le trame e i personaggi messi in scena, il teatro promuoveva la riflessione su temi e problemi di interesse collettivo. I soggetti delle tragedie erano quasi sempre mitologici, un'eccezione costituita dai persiani di Eschilo, una tragedia a sfondo storico sulla prima guerra persiana. Attingevano al patrimonio di vicende esemplari e di personaggi tutti ben conosciuti dal pubblico. Le commedie si ispirano invece a situazioni più quotidiane e si prestavano la satira dei personaggi d'attualità, inclusi i potenti di turno. Il filosofo Aristotele si chiese nella poetica per quali motivi in Grecia sussistesse un rapporto così stretto tra pubblico e teatro. Gli spettatori affollavano le gradinate e assistevano agli spettacoli con intensa partecipazione, soffrendo nel caso delle tragedie, discutendo con passione nel caso delle commedie. La risposta di Aristotele fu che il pubblico era in parte avvinto dal potere liberatorio e purificatore. Lo chiamò catarsi, cioè purificazione, delle sofferenze che la tragedia propone, in parte affascinato dalla bellezza dello spettacolo in sé. Gli spettacoli avevano luogo nel grande anfiteato cittadino, appoggiato sul bordo del colle dell'acropoli. Iniziavano nel pomeriggio e si proteevano a lungo, in un'atmosfera di straordinaria suggestione. Il coro danzava con solennità, cantando ritmicamente i versi del testo, mentre a poco a poco si isolavano i protagonisti dell'azione, agghindati con costumi multicolori, con la grande maschera sul vonto sormontato da turbanti e pennacchi. L'effetto d'insieme doveva essere indimenticabile. Le novità dei sofisti Filosofia Il confronto critico delle idee Le novità della vita intellettuale atenese è incarnata dai sofisti. Il termine deriva da soffia, saggezza, e si applica a un gruppo di filosofi, tra cui Protagora e Gorgia, che giunsero a insegnare ad Atene, diffondendo un nuovo pensiero di tipo razionale. Si trattava di una novità rilevante. Per secoli prima dei sofisti si era pensato che il giusto, il vero, il bello discendessero da un'antica tradizione, addirittura dagli dèi, e dovessero solo essere accettati, non discussi. I sofisti ribaltarono questa impostazione. Nessuna idea o principio è indiscutibile. Tutto va sottoposto al vaglio critico della ragione. Era un criterio, oltre che nuovo, adatto alla vivacità della polis. In quel mondo complesso e stratificato, infatti, si attuavano tante ricerche ed esperienze contrastanti. Soprattutto l'esercizio della democrazia richiedeva il confronto delle idee, non più l'obbedienza a qualche certezza indiscussa. I sofisti seppero dare basi al diffuso bisogno politico. In loro le classi media tenesi, che avevano appena conquistato la possibilità di partecipare al governo della città, trovarono quanto cercavano, cioè le risorse, conoscenze e capacità, prima riservate e solo aristocratici. Maestri di pensiero e di parole, i sofisti si facevano pagare le proprie elezioni. E ciò suscitò scandalo, in un tempo in cui, per tradizione, il sapere era ritenuto non un possesso di uomini, ma il frutto di una rivelazione superiore. I sofisti erano maestri, soprattutto nell'arte della persuasione, la retorica. Grazie ai loro abili ragionamenti, sapevano trovare giustificazione a tutto. Ciò spiega il loro successo presso i giovani ricchi, desiderosi di compiere una rapida e brillante carriera politica. Perciò molti intellettuali contrastarono i sofisti, dal grande filosofo Platone al poeta comico Aristofane. Costugne la commedia alle nuvole, mise in scena con Tony Beffardi la bottega del pensiero di Socrate, maestro di Platone, presentato anche lui come un sofista. In realtà Socrate era lontano dal praticare i metodi dei sofisti. Insegnava senza chiedere nulla in cambio, semplicemente conversando sulle piazze o nelle case, con chiunque volesse partecipare alla discussione. I saperi della storia, storia e scienza, la medicina magica del dio Asclepio, Le terapie di Asclepio, semidio guaritore, l'arte di combattere le malattie e di curare i malati, è stata praticata in tutte le epoche e in tutte le civiltà. Una prima scienza medica nascerà in età ellenistica. In precedenza nel mondo greco riscuoteva a grande successo popolare la medicina magico-religiosa del dio Asclepio, poi chiamato Esculapio a Roma. Asclepio era considerato discepolo del mitico centauro Chirone, era venerato come semidio, dunque un essere a metà tra la natura umana e quella sopranaturale degli dèi. Il suo culto era praticato negli affollati santuari presenti in diverse località della Grecia e in particolare nel santuario di Epidauro, nel Peloponneso. I sacerdoti di Asclepio curavano i pazienti con vari mezzi, interventi chirurgici, cataplasmi, impasti di amini, mucillagini e oli, che si applicavano di solido a caldo direttamente sulla pelle, pozioni da bere, formule magiche e la cosiddetta incubattio, sonno rivelatore e liberatore entro il recinto sacro. Il dio appariva in sogno e consigliava il rimedio, perciò il popolo pensava che fosse sufficiente dormire in un santuario consacrato da Asclepio per guarire da ogni malattia e si sosteneva che qualche volta Asclepio intervenisse per guarire i malati di persona. Ragione e credulità, in vano il filosofo Platone nei suoi dialoghi obiettava che un dio non dovrebbe mai apparire in vesti umane, tanto più se con la valigetta del medico. Queste ragionevoli osservazioni trovarono però pochi estimatori. Le epifanie, manifestazioni di Asclepio, caldamente richieste e generosamente compensate, continuarono senza posa documentate da iscrizioni e fonti letterarie. Difficile distinguere per noi il vero dal falso, l'illusione dalla realtà. Gli ammalati, per lo più un buon numero di loro, uscivano dal santuario di Pidauro guariti o convinti di esserlo, poi per comunicare a tutti l'esperienza prodigiosa che avevano vissuto, incidevano le loro vicende sulle pareti del Tempio. L'ammalato che si avviava al Tempio, il semplice vandante, poteva così leggere vicende esemplari, dalla forte suggestione emotiva. Testimonianze a mo' di ex voto. Ecco alcune storie esemplari, citate nelle cosiddette croneche di Epidauro. Ermodikos di Lamsaco non si muoveva più, il Dio gli ordina in sonno di alzarsi e di trasportare nel Tempio la pietra più grossa che trova, la stessa che restò a lungo come prova visibile del miracolo accanto all'altare. Eoippos aveva una punta di lancia infissa nel suo corpo, mentre dormiva il Dio gli estrasse la punta e gliela mise in mano. Al mattino se ne andò guarito mostrando a tutti la punta uscita dal corpo. Un certo eratocle di Trezene stava ormai per farsi cauterizzare un ascesso da un medico quando il Dio nel sonno si mostra proibendogli l'intervento. Giunto a Epidauro vide scomparire il male da sé. Un Dio vicino agli uomini, Dio soccorritore, a Scleppio aveva una peculiarità, appariva profondamente diverso dalle altre divinità greche, così lontane e distaccate dalle sorti degli uomini. La sua fama ci documenta il diffuso bisogno di una religione più umana a cui tributare non più un culto civico come avveniva per le altre divinità della polis, ma una fede individuale e personale. Queste esigenze troveranno sempre più spazio nella religiosità di età ellenistica e infine una risposta nella religione cristiana. a Grazie a tutti.